Clicco mi piace sulla pagina fan di Socrata, perché è un maestro di vita. Benvenuti a Spettiva della Filotopia! Adesso clicco mi piace sulla pagina fan di Cartesio. Platone, Aristotele, Socrate, eppure volevo dire Socrate. Platone, Socrate, Aristotele, Platone, Giordano Bruno, Demogrito, Armenide, Pitagora. Festival della Filosofia, oggi a Lecce il benvenuto, siamo a Porta Napoli con lo staff. Voi siete un po' le guide dei vostri compagni? Sì, un po' le guide, insomma le accompagneremo, le assisteremo per tutto il percorso che loro faranno qui a Lecce, in realtà tra Lecce e Otranto. Niente, le accompagneremo e poi loro faranno le loro attività in realtà separati perché il festival è per i ragazzi. L'importante è che loro vivano questa esperienza insieme anche con le altre scuole. Voi da dove venite? Io sono di Napoli, loro in realtà sono della zona. Come siete stati scelti per svolgere questo ruolo? È stata scelta la nostra scuola, è stata premiata per la partecipazione nelle scorse edizioni, hanno scelto noi come steward host. Il festival della filosofia serve ai ragazzi a sviluppare certi pensieri che magari in attività curriculari normali non svilupperebbe. E quindi questo festival insieme ai laboratori, ai docenti, laboratoristi affronteranno questi temi in modo pratico con laboratori come il cinema, danza, teatro, tanti altri. Ma dove sono le professoresse di film? E' già il terzo anno che siamo venuti, solo che l'anno scorso era nel Cilento, quest'anno è nel Salento. E' stata un'esperienza bellissima per i precedenti due anni e quindi abbiamo pensato bene di ripeterla quest'anno in una zona diversa. La filosofia può servire a questi ragazzi forse più di ogni altra materia, vero? Sicuramente. Se si comprende questo si attivano le potenzialità che ci sono in ogni ragazzo. Il saggio è colui che sa di non sapere, in effetti. Conosci te stesso.